Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video di Fortnite, ma chissà perché non sono con nessuno, chissà il perché perché, come spero che abbiate capito dal titolo, andiamo a fare una partita in singolo, la prima volta è la terza volta che ci provo, perché mi è sempre crashato e mentre che non lo spingiamo è pronto, vado sul negozio oggetto su portare il mio creatore preferito non so qual è il vostro, ma il mio è veramente questo e mi piace un botto io ho paura di compreso tab profonda, ma mi piace molto anche questo cartellino rosso non so, perché c'è già infinity tab cartellino rosso, potrebbe essere bello non lo so, lo sapete? e mentre io vi invito tutti a lasciare dei like, a iscrivervi al canale, a attivare la campanellina se non dopo perdete i miei video, i miei video, come fate a perdere i miei video dov'è che andiamo? non lo so dove andiamo ragazzi? la guglia no, 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 no palco pacifico qua, ma c'è veramente troppo di... qua è troppo lontà, dai andiamo qua non so che lontano male sto arrivando se muoio sotto i venti e sto video non uscirà mai andiamo a 97 persone qua c'è un botto di gente tipo esplosivi per andare in staccato, no, no, no ma che non vedo armi un pochino del gelato, cioè iniziò a sparare era un arco, la cosa che adesso mi serviva di meno ho fatto anche la rimaccia, ho lasciato un like per la mamaccia quando sono lontano non lo so e uno è morto e nessuno ma se muo do staccato, lontano e watching and 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 vedo insomma ma devi prendere qualcuno l'ho sentito un roma sottofanno ma adesso la calma indiricente non è vero anche la cosa perché c'è di dire che non servono a nulla ma riprendono con i denti non si trova eh? qua che... ti sembra di dino? qua si muove la pompa l'ho sento lave che perché No Hai vedi 50 giocatori mostri Piano piano non mi ti mandano Piano acceso Questa screen è perfetta quando c'è il buio Avevo sempre trovato delle belle cose Non so Finché non tolgo una bell'arma L'ho scelto tutto Non so brutto C'è qualcosa di blu non voglio vedere Se ne sto andando Piano piano non c'è una guglia Anche se ne sto ancora montanando Perché voglio passare inosservato Ragazzi Che ne so No Comunque l'ho già fatta una guglia Questa cosa non basta Non mi piace Ragazzi non so Lo so che mi trovo giusto ma Che anzi Siamo in 38 persone Niente C'è qualcuno che ha visto No, che non l'abbia sentito L'abbia anche visto No, che c'è qualcuno Non c'è qualcuno Non c'è qualcuno sto con l'arma molto forte non c'è qualcuno a niente vado qua corri corri non c'è qualcosa dove c'è? 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 è fortissimo che grazie per l'arma qua via non c'è? è fortissimo che grazie raga mi sta guardando era forte no 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 le faccio un belletto lo so non c'è non c'è c'è qualche qua al buio non vedo niente ma manca loro se c'è un'altra cosa che viene impartita sono tipo morto non ho visto le armi che c'erano lo so raga lo so non potevo fare niente o o o portanto una rana canzi siamo in 19 sono perso o 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 non so di stanno sparando ma spero non è la sonzenza cerchiamo adesso ok 85 raga raga ragazzi è fortissimo ok è bianco l'ho fatto ma c'è bene grazie se c'è lo schiaro anche la tempesta ci ho messo ma io sono fatto un medic kit e degli shield c'è una persona che mi guarda e l'aveva vente che qua ma dov'è? quanto tassi che ho? non è mai in sé non sono mai in sé pacchetta non so raga stanno sudando le mani e c'è due kill non so quanto posso resistere ma se faccio la winner is se faccio la vittoria vado guarda ah però sai anche io faccio un balletto tanto non la faccio io non so non so non so non so non so non so c'è 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 raga sono morto sono morto eh oh raga sono già durato troppo secondo me che c'è 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 ma dios ah scusami senore direi lust cavolo vabbè comunque per sto video che so che possiamo concludere rotizia veramente forte è una diabla ciao ciao